Io però volevo approfittare di questo momento per convincere un personaggio che musicalmente ha dato tanto questa sera e io ti devo anche ringraziare a nome dei nostri amici e degli spettatori, vedi stanno smontando a poco a poco fra un istante qui non ci sarà più niente, ma perché non riempiamo questo momento morto anche se sono bravissimi ragazzi, ma lo riempiamo con qualche cosa di spettacolo da parte tua musicalmente parlando? Oddio Daniele, cosa posso fare? Dimmi tu Lo so, io per esempio mi sono accorto che manca, dal programma tuo di questa sera, Calimba Ah, ma io non l'ho provato Non lo so, lo so che non l'avevi provato, però visto che hai improvvisato per tutta la sera, improvvisa un altro momento con Calimba D'accordo, allora faccio un'improvvisazione di Calimba Calimba, Tony Esposito Calimba, Tony Esposito Calimba, Tony Esposito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti